Se ho raccolto abbastanza punti 7 E intanto riduco della metà, riduccio? Bene Final boss O no Un altro piano, un quarto piano Caspita A sua sorella Questa è una visione creata da Babe Questa è un incidente Questa è una visione creata Questa è una visione creata Questa è una visione creata Uno che usa la forma della madre per usare i propri codi Questa è una visione creata 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 Io tiro dritto vediamo rilassati e usati S.A.S. grazie l'esterno è gigantico sembra che ci stiamo guardando ora se stiamo evitando gli altri dovremmo potremmo farlo, certo? vorrei pensare così ma non puoi lasciare il tuo guardo fino a qui tu hai detto bene sembra che non ci stanno ancora guardare il guardo tutti vabbè dai me la cavo con le schivate almeno non mi piace cosa sta succedendo? c'è il centro di Babe ok minchia è un treno in movimento guardate che ci vuole arare non ci vuole no è proprio l'exo sarà svegliato Yui To Un Mega Gundam lo facciamo fuori col tizio. Io senza una armor suite o qualcosa non lo tocco la bestia rio. Troppo grosso. Troppo, troppo grosso. Si, sembrava che ci sia già processato. Cosa sta succedendo? Bebe sta implementando procedimenti emergente. Potrebbe essere perché ci siamo arrivati così vicino? Ho sentito qualcosa adesso. Si senti come le corde riemi. Cosa sta succedendo, Arashi? Cosa sta succedendo? Non mi credo. È totalmente lato. Cosa? Cosa significa? Cosa significa? Cosa ho detto. Tutti i dati sono errati senza un solo traccio. Se senti vendicoloso. Cosa significa che Bebe si ferma il suo accordo? Mi piace il tuo pensiero. Ma qualcosa non sembra proprio. Inoltre, non sembra che Bebe possa fare qualcosa di più. Quindi è sicuro di dire che abbiamo riuscito a stoppare il plan Togetsu? Mh. Ebbè. Che bastardo sta macchina. Macchina bastarda proprio. Si è eliminato da solo pur di non farci dare i dati. Eh. Che macchina. Senza di vita. Si. Si. Un'altra anomalia è stata osservata a Cunat. E sono diventati più frequenti. Mi piacere che abbiamo fermato il plan Togetsu. Ma non mi piace che abbiamo perduto tutti i dati. Ci potrebbe essere informazioni su Cunat. che è in un'altra parte. Che. 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 Sai il fratello. No. Questa parla adesso. Eh. Un po' ci assomiglia, eh. Un po' a odstile. No? Ah quindi è stato tornato nel passato adesso C'è tutta questa staff per arrivare qua e qua, sto coso si è spento C'è tutta questa staff? Questo è un futuro insieme con le nostre mani, sì Maggio che andiamo tutti insieme nel passato, tutto lo squadrone, no? Ok, ok, è diventato più grosso di quello che era, più grosso di quando l'abbiamo lasciato C'è definitivo Da sola Luca? Credo che è un rischio che possiamo evitare facilmente in questo attento Ma se mi assicuro che non vedo me... No, credo che non siamo sicuri Ma Kasana non è andata da sola E dai E dai va a Kasana ma noi no, e dai nel passato E dai E dai E dai E dai E dai Ah E dai E dai D'accordo, è tutto quello che posso fare Se stai cercando di ricordare cosa è successo, i miei poteri dovrebbero aiutare Ok, cominciamo C'è stato un grande Immaginate, 11 anni fa nel hospital dell'OSF, e la madre. È rilassato, la punta di Kunad reagisce! No, incontro all'altro, incontro adesso. Adesso incontro l'altro che è andato anche lui nel passato. Com'è il generale Karen? Karen! No, e riprendiamo di nuovo la memoria. Questa è la sorella, uguale a Kazan, o no? Forse è la Kazan del futuro, che l'ho incontrato quando era nel passato, potete vedere? Sarà così, per forza. È il pischiello, o il pivello. Ma dove vuoi che si nasconda in un quadrato di erba con un albero che sono su degli angoli? Dove si nasconde? Ah, un singolo albero c'è, dai. Io scappo. L'unico albero in mezzo al campetto. Sì, questo posto c'erano già passati, infatti, questa parte qua, è dell'ospedale. Ah, era qua che si ricordava di averlo visto. Oh, Yurkasane. Oh, io... Un giorno, io ho ricevo una memoria del futuro, io lo ho visto in Togetsu. Penso che Babe viva il suo valore. Il provo il potenziale delle strifiche di erba. Ma, cosa vuoi dire? Non ho capito. Il cervello degli ultimi usati di Red Strings sono collegati al corpo di Babe. Nessun di loro erano così forti come voi. Babe usano queste cervello per creare pseudo Red Strings per trasferire i dati allo tempo. Per usati di Red Strings in l'ultimo. Trasferi? Quindi i dati non sono errati? Ma... come lo sai? Mi sento un po' di mezzo dentro di Babe. I dati sono trasferiti nella mia mente. E' questo possibile? Babe usò un rischio per il suo plan non essere faiato. Un' abbastanza di dati sono trasferiti nella mia mente. Mi sento che la mia mente è scoperta, e ho scoperto. Quando mi sono riuscita, mi sono riuscita con la informazione che mi ha dato. Anche... Anche così, sono sicura che non mi senti tutta l'informazione. E' come ho scoperto che sei vivo e bene. Questo non è il momento per rimanisciare, però. Sono sicura che sei scoperta nel tempo. Grazie, madre. Voglio che ti racconti cosa sai sull'Gate Kunat. È la morte di Yuito veramente l'unica modo per la distrutturla? Oh? Il bimbo. Traumatizzato. È il bimbo. È il bimbo. Traumatizzato. È il bimbo. Traumatizzato. È proprio perché ho fatto le preparazioni giusto per questo non succedere. Ora, mentre le strade riempie sono attive, è la mia unica chance di provare. Travi a tuo tempo. Eh? Ah, è qua che dopo è scomparsa. Ah, ok. È scomparsa, non sa più che fine ha fatto. Ma prima cosa devo trovare a Yuito. Tu lo trovare? Ha, stiamo giocando hide-and-seek. È bene. È scomparsa proprio là. È ecco. 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 Ok, allora dobbiamo trovare Yui To. Oh, Yui To, aspettate! No, lei mi troverà qui. Cosa è vero? Cosa è vero? Andiamo in una nuova! Tu qui? O dove è tua madre? È non la mia? Ma mia mamma è... Cosa è vero? Andiamo in una nuova! E qui si è separato con lei. E qui Yui To muore! Boom! Yui To del passato muore! Andiamo in una nuova! Andiamo in una nuova! Andiamo in una nuova! Yui To, non si muove! Ecco di si ricorda! Oh! Siiii! Un mostro Elite e un colpo! Andiamo in una nuova! E qui! Andiamo in una nuova! E qui! 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 Andiamo in una nuova! E qui! 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 Così! E qui! E qui! E qui! E qui! Sane! È la stessa cosa che la visione che ci ha mostrato, che significa... Mamma? Perché sei qui? C'è qualcosa? Ioizou... Mamma! Parliamo prima. Il cervello deve essere sotto molto stress. Vogliamo trovare un posto di resta. Ma non si può essere riuscita dal tempo di resta? Non ti preoccupi. Ancora forte, io sono un utilizatore delle pezzi. Dobbiamo riusciare a la scuola. Awww. Awww. Wakana dovrebbe essere bene quando abbia dormito. Non c'è un problema che ha fatto a sua cervezza. Si sembrava che era solo un pochettamento. Bene. Mi piacerebbe che non è vero. Lei diceva che potrebbe restare in questo tempo per un tempo. Allora dobbiamo restare. Se è vero che Wakana ha dati di ricerca di Babi, questo è un signo sperimentale. Mi ricorda. C'è qualcosa che abbiamo parlato di Babi che mi ha fatto curioso. Noi stavano fare altri, ma è quella la stessa tecnica di metamorfico come Nuhimuka? C'è vero. È vero che Naomi è stato scoperto con una scuola speciale che aveva altre particole. Non potrei mai capire cosa Nuhimuka ha capito di capito. Ma se hanno la tecnica di incorporare altre particole in una scuola, potrebbero essere capito di fare qualcosa sull'istituzione. Se nessuno Nuhimuka e Togetsu possono farlo, ma che sia molto difficile. Potremmo che ha qualcosa con la quantità di particole. La stessa tecnica è fatta di altre particole, certo? Quindi i altri che fallono dal cielo dovrebbero essere un tipo di animale prima. Non sono i bambini, abbiamo capito che sia nella stratosfera, ma quindi... che animali potrebbero essere? Beh, probabilmente venivano dal luogo all'istituzione, fuori della stessa tecnica, come la luna. C'è una stessa tecnica sull'istituzione 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 che contiene informazioni genetiche di molti animali, o che dicono. Quindi i altri, che fallono dal cielo sono instigati dal cielo anche. Questo significa, che non importa quanto si combattiamo, i altri saranno infinitamente. È davvero... ... 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